Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Tere Di Oggone. Ora ci sposiamo a Cotronei per una singolare protesta di alcuni cittadini a causa della sostituzione di una fontana con un albero di olivo. Cotronei per una singolare protesta di alcuni cittadini troppo vecchi, che c'è di strano se alla fine bravi e sprucchi. E questo è il paese dei misteri dei suoi trucchi. Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. Un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo guarda che stiamo ammazzando il mare. Un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. Un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo guarda che stiamo ammazzando il mare. Un miracolo per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male Il nostro telegiornale termina qui Grazie per l'attenzione Arrivederci alle prossime edizioni